L'incontro di oggi promosso da Universa Sisi attorno al design, in particolare attorno a tre realtà Umbria è stato molto interessante e il moderatore Andrea Margaritelli ha messo in evidenza tre spaccati di tre aziende che fondano le radici in Umbria che sono ormai in seconda generazione, che si sono aperte a una nuova visione che è quella del design per avere un valore aggiunto nei prodotti e per soprattutto confrontarsi con i mercati internazionali. Tutte e tre le aziende lo hanno fatto in modo diverso ma partendo dalla stessa matrice e in tutti e tre i casi è stato molto importante e fondamentale il connubio e l'incontro con il design. Quindi questa scintilla, come appunto ha più volte rimarcato Andrea Margaritelli, è stata fondamentale e necessaria per capire e poter sviluppare e dare una nuova direzione all'azienda. Grazie. Grazie.